Ciao ti ricordi di mio salutatore, noi ci vediamo martedì, salutiamo tutti quanti, grandissima, mi raccomando al cinema, al cinema giovedì, 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 stai su internet, adesso ci sei andata, ci sei messa su Facebook o no, ancora no, va bene, salutiamo tutti i tuoi fans, ciao e andate a vedere il film, oh quest'anno tutta ceciaria, Natale al sud, ciao grande.